La quinta edizione della Saga Promotevo Siccagno, che include, come si è visto, arte, cultura e la smulizzazione ecocastronomica della nostra comunità. Ci sono tantissime persone che vengono, stasera ci sarà tra l'altro la scoperta di Montesuso con il dottor Magaluso che ci illustrerà le nostre origini e poi ci saranno le varie degustazioni dei porti tipici. Fa parte sempre la Saga all'interno della nostra rassegna a Sardegna Montalegrese. Quest'anno abbiamo rinnovato il look a poco marina, ora domenica ci saranno degli artisti che faranno dei murales con il muro che proprio portano alla spiaggia ed è un'unione proprio tra la spiaggia e il paese. Ci sono tantissime persone dei paesi limitrofi che ci vengono a trovare e stiamo puntando tantissimo proprio sul turismo che è il buono della nostra economia. Stasera presenteremo il nostro panino gourmet ispirato al territorio con dell'alice marinata, polvere di pomodoro, pomodoro essiccato siccagno che giustamente è quello tipico della Sagra e mettiamo anche un patè di olive, è il formaggio di torresalsa nero. Questa serata è dedicata al pomodoro siccagno perché per noi fare il pomodoro siccagno è tradizione. Noi questa sera abbiamo fatto tre tipi di preparazione, è un'insalata di cipolla rossa con del pomodoro siccagno del territorio e una spolverata di tonno e subito dopo una bruschetta di pane con il pomodoro siccagno. La terza pietanza che abbiamo preparato è la pasta con le melenzane.